Anche per questo emendamento il voto del Movimento 5 Stelle sarà negativo, ma perché? Perché questo è un regolamento che disciplina il servizio ed è strutturato in una serie di capitoli che vanno proprio in questa direzione. Altro è invece l'analisi o la qualità o i prodotti che vengono erogati e che comunque vengono utilizzati perché comunque fa parte di altro. Così come perché abbiamo votato no anche agli altri due emendamenti, perché all'interno di questo regolamento, di questi ordini del giorno, scusate, perché all'interno di questo regolamento è già compreso una serie di controlli che l'amministrazione deve eseguire, c'è l'intervento della ASL che deve andare poi a garantire anche la qualità dei prodotti. Quindi sono ordini del giorno superflui che non hanno a nostro parere proprio alcuna attinenza con il regolamento stesso. Grazie.